a me basta prendi che si scala allora o? ah, perciò che vogliamo, perciò che partiamo il fuoco perciò che è anche il fuoco il fuoco un nuovo fuoco da fatto? Grazie a tutti. 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 Allora, sai che lo facciamo? Facciamo 8 metri. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vado a tutti. Poi posso tirare? Sì. Posso tirare? Vediamo come abbiamo toccato i mali che cosa qua. Ah, perché io lo vorrei comunque di farlo. E' a buona. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? T'ho sconto sul motorino che ti ha distrutto. Ti sei avuto un piccolo infarto? Questo è un po' vissuto per ammigliare quello. Ha fatto di tanto, non fa niente. Se non c'è altri giorni, nel mese si fa anche sopravvivere. Dove è andato? Adesso per l'antenna non riuscite a trovare posto sul tetto. L'abbiamo messa su, però quella della Tiburosi è invisibile. In che senso? Sembra una teatrica. Ma dopo riusciamo comunque a trasmettere? Un chilometro. Un chilometro. Eh? Ce n'è un chilometro o no? Solo che? L'ideale sarebbe trasmettere verso l'A. Però l'A, non vedo cosa c'è. L'A dove, scusa? L'A. C'è il seminario per scoprire. No, vabbè, ce li ha cercati. Oh, possiamo fargli fare anche lì. Bisognerebbe trasmettere qua. Se no, dalla porta opposta, no? Verso esattamente il centro, la Vimiglia. Non si era detto di trasmettere verso l'Ira? Eh, ma non si può. Dopo, vabbè, con la 360 puoi andare lateralmente. Eh, no? Eh. Ma vai vedere se dobbiamo tirare. Vado, vado! Boh, no perché scappiamo mica la tremenda, eh. Allora, uno così. Tira dentro te, Nando. No, uno si fa una volta da mezzo del bordo. Due, ah, mio. E' due le diceste. Basta. Tre, buono. Siamo in tre così. Basta. Insieme dobbiamo tutta ammattarsi. Ok? No. Basta. Ah, sarà anche il metri, no? E... E... adesso te ne andiamo dentro. Sì, ma te lo vengo allungare io già, eh? Eh. Aspetta. Inima del inter? Alla parte. Eh. Alla parte. beh questo qua la posso staccarlo grazie grazie andiamo un po' dietro andiamo un po' dietro ecco avanti io dietro dietro avanti wow 5 ore? Sì, luce te, non stiamo andando bravo, non c'è un problema, aspetta eh. Alla.. ... ... ... E' finito? Basta, si. Si, intanto sono bella pulita le mani. Ci ha lavato le mani. Ci ha lavato le mani. Ok. Con il partitore dentro dell'attività che è la prima maniera schifosa, deve fare il portamento qui perché cosa... Cos'è? Ma qua ho su un lì. Con il bagaglio lì. Il bagaglio, il bagaglio, il bagaglio. Allora, faccio. Il bagaglio, il bagaglio, il bagaglio. Non è tutto il bagaglio, ma il bagaglio. Non è tutto il bagaglio. Il bagaglio è pieno. Sì, infatti, lo potrebbero anche preparare. Silvio! Vediamo l'appartamento latino. Allora, questo è un oggetto che puoi vedere dove metterlo. O per terra, o sono un mobiletto, o attaccato il muro, o no. Eh, no. Vabbè. Quando viene la pulizia è il posto migliore per disinescare subito o qual è? Eh? Il posto migliore per disinescare quando vengono. Quello che sembra poco, forse. La finestra. Sì, sì. Sì, infatti. Si nascondi, sì. È certo che si è passato a un muro. Ah, no. Ah, no. Io non ho potuto indicare niente perché è meglio la caccia della pietra. È un regore. Dicevamo di lasciare appuntare un po' a te, anziché abitare al muro, così quando vengono la studiamo. Sì, va bene. Se no, la caccia qua lì, è dentro la polona. C'è la polona lì? Eh, no, la polona è sempre questa. No, ma la so più. Sì. Oh, io vi lascio il cavo polona. Beh, intanto il cavo... Il cavo sul ce l'ha passato. Lo facciamo alla fine questo lavoro? Sì. Così... Sì, sì. Intanto se non lo fissiamo, lo potete mettere dove volete. Bene, sì. No, quello l'ho votato. Ah. Sì, è un po' più l'uomo del cammino. Beh, adesso non piove. Oh, super. Se non lo vuole... Oh, che l'ho trovato? Questo vuole in quel anno è fare... Per me, io sono giulato. Cioè, con questo... Solo di... Dic... Grazie. 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 Questo bisogna raffa luce da sotto, così. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ne devono arrivare due però, eh? Allora, niente. Qui c'è una prolunga. No, mettiamo una ciabatta. Prolunga con la ciabatta. Se ha una ciabatta, va bellissima. La possiamo comprare. Guarda, qui c'è l'ingresso a scarte. Dove si entra dentro come... Vabbè, intanto lo appoggiamo qua, dopo se vogliamo mettere lì, prendiamo la ciabatta. No, 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 no. Non so, no, 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 no. E' un connettore. così intanto facciamo il collessore giù il collessore giù il collessore giù lo faccio solamente tutto tranne questo e la parola 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 prolifera Se fossero collegate in qualche modo, si dovrebbe fare una trasmissione unificata di tanto. Ah comunque tra un po' sono collegate. Sì, infatti dopo si è chiaro. Quindi partirete alle 8, 8 e mezza. Allora fai una parola, quando partire? C'è la camera? Sì, ce l'ho. Magari dopo la scala mettila un po' quindi... Sì. 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 Come hai fatto la coida? C'è un boost d'axe. E' un'altra parte. Siamo in federazione. Orgoglio del giusto. No, per segnare. Per segnare. Perfetto. Si sente Andrea, non lo so. Per cui non ci manca il contorno della scala. L'ho chiamata anch'io, ma non ho spesso. Com'è? Per una colazione. Energia. Oh mio figlio. Previsioni. Lo risolto. Perfetto. Ora io scommetto che nel prossimo futuro viaggeremo tutti. Tutti i perferrari. Viaggeremo tutti i perferrari. Perfetto. 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 Ah, suonato. Perfetto. Ah, c'è lì, cazzo, lo perdo giù. Vabbè. No, vini, vini. C'è un paio di più. Situ"? Eh, si vuoi la tv. Eh, se vuoi la tv. Ok. Si? E chi parla? Ah no scusa, sono serio. Che cazzo? Sì, che mi sono state Sì, è vero che è? Sì, è vero che ho fatto Sì, è vero che è vero che ho fatto un po' di piccoli altro giusto un po' di piccoli forse noi e poi canale un po' di piccoli un po' di piccoli un po' di piccoli un po' di piccoli c'è uno stacco troppo alto di fronte bisogna andare in alto lo proviamo in qualche bar come dicevamo e vediamo che si fa un po' di piccoli un po' di piccoli un po' di piccoli un po' di piccoli due Sì, sono girato così, quindi come lo vedo in questa maniera qua? Sì, lo vedo in questa maniera, lo vedo in questa maniera, lo vedo in questa maniera. Sì, facciamo lo stucco? Eh sì, perché qua era brutto l'ora, abbiamo internato un po' i fili. Ciao ragazzi. Andiamo, grazie. Poco. 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 Ti chiamo più tardi. Va bene. Il satellite è ok. L'ho già provato, va bene. E' accaduto un cuore di Berlino, eravamo in molta povertà e poi anche non si è riuscita a essere. Eccolo lì, vieni a vedere. Si vede bene. Puntalo. No. Devi diventare tutto nero lì. No, no, deve diventare potente questo. Ah, tutto bianco. Ecco. Così è il massimo. Sì. Così è. Vai, provo un po' c'è. Ok. Ve lo giro? No, no, guardo un po'. Qualcosa c'è? Allora, l'altro canone che viene lì. Ecco, quello c'è da dietro. Non c'è girato proprio dentro. Vieni qualcosa da qui. Eh. Bene. 500 metri ora, circa. Facciamo 400. Scesso, ecco. Grazie. Ciao. Grazie.